Questa estate, l'estate ragazzi, normalmente dove li mandate? In dei stati ragazzi con orde di bambini che giocano a calcio la mattina alla sera. E sì, è divertente, però cosa c'è di meglio? C'è il boutique Summer Camp di The World che Stefano adesso esporra. I vostri ragazzi dai 6 anni fino ai 17 potranno venire da noi a frequentare il nostro Summer Camp dal 10 giugno fino al 5 luglio. Dalle 9 di 17 avranno un sacco di attività da fare con i nostri insegnanti madrelingua. Ci saranno laboratori di magia, laboratori di teatro, laboratori di musica, di cucina. Li porteremo in gita una volta a settimana, quindi un Summer Camp a tutti gli effetti un'estate ragazzi, ma con il valore aggiunto che ci sarà solamente la lingua inglese come filo conduttore per tutte e quattro le settimane. Per iscrivere i vostri ragazzi non dovete fare altro che chiamare in segreteria o passare qui da noi a trovarci e conoscere il nostro staff. Quello che faccio i segni!